Ancora pochissime le notizie sulle cause che hanno determinato la devastazione dell'EHawaii. Molte ipotesi, tantissime, molti video di circolazione sui social, alcuni da far caponare la pelle, soprattutto nel vedere una devastazione che ha distrutto case su case, addirittura liquefacendo le carcasse delle auto in maniera incredibile, la cosa che posso consigliare è di andare un po' sui diversi social, da qui su TikTok fino a Twitter, per vedere un po' altre fonti di informazione, ci sono alcuni video veramente incredibili.